Amazzoni, donne guerriere della mitologia greca. Le Amazzoni sono un popolo di donne guerriere della mitologia greca. Sono spesso raffigurate come donne forti, indipendenti e coraggiose. La loro patria tradizionale è la Scizia, una regione dell'Asia centrale. Origini. L'origine delle Amazzoni è un mistero. Secondo alcuni miti, sono le figlie di Ares, il dio della guerra, e di una donna mortale. Altri miti affermano che sono le discendenti di Eris, la dea della discordia. Storia. Le Amazzoni sono spesso coinvolte nelle storie degli eroi greci. Ad esempio, Teseo, l'eroe ateniese, uccise la loro regina, Ippolita, per rubarle il cinto magico. Pentesilea, un'altra regina delle Amazzoni, combatte e morì nella guerra di Troia. Società. Le Amazzoni erano una società matriarcale. Erano governate da regine e le donne avevano gli stessi diritti degli uomini. Erano abili guerriere e cacciatrici, e erano spesso temute per la loro ferocia. Cultura. Le Amazzoni erano adoratrici di Artemide, la dea della caccia. Erano anche abili artigiane e creavano oggetti di grande bellezza e raffinatezza. Eredità. Le Amazzoni sono un'immagine iconica della cultura occidentale. Sono spesso rappresentate in arte, letteratura e cinema. Sono un simbolo di forza, indipendenza e coraggio. Realtà o mito? Non è chiaro se le Amazzoni siano esistite davvero? Alcuni storici ritengono che siano basate su donne guerriere reali che vivevano in Asia centrale. Altri ritengono che siano semplicemente un mito. Tuttavia, le Amazzoni continuano a ispirare e affascinare le persone di tutto il mondo. Sono un simbolo di empowerment femminile e di sfida alle norme sociali.